La denominazione Moriondo deriva da Monte Rotundo, un toponimo documentato nel 1216 in una delle prime testimonianze scritte relative al borgo. Posto ai confini del Monferrato, appartenne dalla metà del XIII secolo alla Repubblica di Chieri e ne condivise le vicende. Dal 1347 appartenne ai Savoia-Caia e poi dal 1418 ai Savoia. Centro visivo della cittadina è il castello, di origini medioevali ma radicalmente trasformato nella seconda metà dell'Ottocento. Accanto al castello sorge la parrocchiale di San Giovanni Battista, anch'essa riedificata nel secolo XIX. Grazie a tutti.